Facebook, YouTube, buon pomeriggio al Presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, che è tornato qua da noi. Presidente, una corsa veramente quest'oggi. Ciao Marco. Buongiorno, mi viene da sorridere, ma non voglio essere blasfemo né offensivo nei tuoi confronti, quando l'altro giorno ti hanno fatto fare l'arbitro in Consiglio regionale. Che è successo? Che è successo, Presidente? Ma questa è una giornata faticosa. Faticosa, esatto. Faticosa, faticosa, un po' di espulsioni, un po' di ammolizioni, cartellini rossi, prima giallo e poi rosso. Prima giallo, poi rosso, poi la forza pubblica, perché non rispettavano neanche... E' perbacco, quindi deve essere stato certamente impegnativo, caro Presidente. Giornata veramente complicata, giornata veramente complicata martedì. Esattamente. Complicatissima da gestire. Abbiamo riportato anche quelle che sono state poi le tue dichiarazioni, che ovviamente le istituzioni non si fermano. Non si devono fermare. Presidente. Non ci siamo fermati durante il lockdown, non ci si può fermare, nel senso che è giusto manifestare le proprie idee in maniera anche forte, in maniera anche, come dire, in qualche modo accesa. Ci mancherebbe altro, però, insomma, si può anche cedere ogni tanto, ma non esagerare. Non si può tentare di bloccare un'istituzione come il Consiglio regionale, con degli atteggiamenti di protesta, che vanno ben oltre quelli che sono i limiti consentiti. Quindi, purtroppo, quando succedono queste cose, chi presiede l'Aula ha solamente il regolamento. Ti abbiamo visto veramente il protagonista l'altro giorno, poi anche sulla RAI, intervista al Presidente Fermi, che, insomma, giustamente hai dovuto far rispettare quali che sono. Non si può non applicare, tentare di applicare in maniera ferrea al regolamento, e quindi ho dovuto, purtroppo, espellere dei consiglieri dall'Aula, chiamare la Digos per farla allontanare, insomma. È stata una giornata brutta da un punto di vista, anche perché, come dire, l'immagine che si dà fuori non è certamente bella, cioè già la gente sta facendo fatica, già la gente ha mille pensieri, mille problemi, e pensare di vedere queste immagini non è mai bello, perché quando le vediamo, come dire, alla Camera o al Senato, non è che ci fanno ridere, anzi, ci fanno arrabbiare. Poi, fortunatamente, in Consiglio Generale non è mai successo, in questi tre anni, sì, certo, ripeto, discussioni accese ce ne sono state, sospensioni ce ne sono state, ma mai a questi livelli, con fischietti, cartelli, come dire, inginocchiamenti, insomma, c'è stato veramente un po' di tutto. Va bene, allora, caro Presidente, adesso andiamo sul vivo della nostra diretta a questo pomeriggio. Grazie di essere venuto, perché so che ho preso tanta gente che ci sta seguendo in diretta Facebook. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Siamo su YouTube, siamo in diretta radio anche. Allora, a tutti voi, caro Presidente, bisogna forse dire subito la prima cosa, i molti ci hanno già scritto, come, 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 come Isa. Ciao Isa, secondo lei sarà vero che da domenica saremo in zona gialla, ma immagino che i dati arriveranno domani. Allora, la prima cosa... I dati arriveranno domani, io, come dire... Oh, l'altra volta ci hai azzeccato. Sì, 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 ci abbiamo azzeccato, ci abbiamo azzeccato, ci abbiamo azzeccato, abbiamo fatto un auspicio che poi si è verificato e quindi bene. No, diciamo che i dati, come dire, sono certamente, almeno l'ultimo monitoraggio che è stato fatto, l'RT era sotto l'1%, per cui all'interno di quello che è definito colore giallo della regione. Credo che i dati di questa settimana siano in linea con quelli della settimana scorsa e quindi... Ho visto anche oggi quelli di ATS. Molto probabilmente, come dire, anche questa settimana dovremmo essere all'interno dei confini della zona gialla. Il fatto che fossimo settimana scorsa in zona rossa abbiamo visto tutti che è stato un errore, poi, come dire, imputabile a chi lo vedremo, e quindi dovevamo già essere in zona arancione settimana scorsa e quindi 15 giorni di mantenimento all'interno di una zona comunque alla Lombardia vanno riconosciuti e quindi se settimana scorsa eravamo in zona arancione, quest'anno siamo in zona... questa settimana siamo in zona arancione, gli indici consentono un passaggio in zona gialla, non ci sono, come dire, motivazioni che possano reggere, come dire, il non trasferimento in zona gialla, anche perché sarebbe, come dire, assurdo, come dire, imputare il non cambiamento di colore sul fatto che settimana scorsa non fossimo rossi, perché siamo stati rossi per un evidente errore. E allora, come vedi, Presidente, qua ci stanno scrivendo davvero tantissime persone, come Clara, ci vuole una poltrona per voi due, ma per cambiare da arancione a giallo, dice, poi Antonia, che ovviamente dice, momento importante, preziosi, Uccia, Presidente, ci illumini, perché mi sembra che di tuttologi ne abbiamo a Iosa. Buonasera da Cosimo, da Marco, buonasera Roberta, Samantha, anche lei dice, ma è sicuro che diventeremo da Domenica gialla? Non è sicuro, non è sicuro, però, come dire, non mi sento di escluderlo, nel senso che non ci sono, come dire, dati che in qualche modo escludono totalmente la possibilità di andare in zona gialla, anzi, l'ultimo monitoraggio che è stato fatto aveva un indice di RT sotto l'1, che quindi consente il trasferimento di zona Lombardia in zona gialla. Domani verrà fatto un altro monitoraggio dei dati, corretti, e quindi, se viene confermato questo dato, io auspico che da Domenica noi possiamo essere in zona gialla. In zona gialla, quindi questa è un auspicio, ovviamente, caro Presidente, però è un auspicio, come dire, come settimana scorsa, avevo auspicato che, insomma, ci fosse il passaggio. Il passaggio, in virtù del fatto, vi ricordate, del ricorso al TARA che era stato rinviato, alla fine c'erano una serie di elementi che mi portavano a pensare che qualcosa potesse succedere. Dico, questa settimana, considerando che la scorsa abbiamo in rosso e abbiamo messo in arancioni, io credo che dati alla mano, a meno che non ci sia uno stravolgimento sui dati di questa settimana, ma non ho elementi per dire che ci sarà uno stravolgimento, credo che ci sono le condizioni per andare in zona gialla, che sarebbe, come dire, una grande notizia, perché tra la zona arancione e la zona rossa cambia qualcosa, qualcosina, ovviamente per il commercio a dettaglio, per gli estetisti, tra la zona gialla e la zona arancione, insomma, cambia un po'. La diversità è molto più alta, c'è tutto il tema dei bar, dei ristoranti, quindi ci sono veramente una serie di attività che possono riprendere, oltre che viene aumentata la libertà personale delle persone, che poi, come dire, ormai ci siamo abituati a vivere con un'alimentazione personale indotta, quasi come fosse normale, ma normale non è. Un saluto da Dario, un saluto da Agnese. Ciao a tutti. Agnese, assieme all'amico Paolo, ci chiede una cosa simile. Nonostante i monitoraggi, dice, non varrebbe la regola delle due settimane prima di cambiare colore? Io spero vivamente di no, Paolo. Cioè, vale questa regola, Paolo, però la regola c'è, ma la settimana scorsa noi dovevamo già essere in arancione e siamo finiti per errore in zona rossa, quindi questa settimana arancione, settimana scorsa arancione, sono due settimane. Quindi hai il ragionamento è questo qua, ok, perfetto. Imputare, come dire, le due settimane per un errore fatto sulla settimana scorsa sarebbe da rivoluzione. Il Consiglio di Stato dice, Angelo, ieri ha evidenziato che non sono state evidenziate giustificazioni sanitarie per l'obbligo della mascherina a scuola per gli alunni durante le elezioni. Il Presidente Fermi ha sollevato la questione mesi or sono. Grande Presidente, chapeau. È vero? L'ho letta questa cosa, l'ho letta questa cosa. Io, come dire, non avevo, avevo sollevato, come dire, una domanda. Avevo letto, ma se c'è il distanziamento, per quale motivo dobbiamo in qualche modo obbligare i bambini, soprattutto i quali più piccoli, indossare la mascherina otto ore, se c'è il distanziamento e mi ero posto questa domanda. Il Consiglio di Stato ha, come dire, dato questa riflessione ed effettivamente il tema dell'incontro sono quando si sta in spazi comuni, quando si esce, quando si fa, come dire, ricreazione, tutta una serie di momenti in cui c'è, come dire, un contatto personale, ma se c'è il distanziamento tra i banchi, il tema dell'utilizzo costante della mascherina sui bambini, soprattutto quelli delle scuole elementari, classi elementari, a me qualche riflessione me l'aveva, me l'aveva fatta porre. Un saluto allora a Laura, anche a Giovanni, a Mimma, a Tina, Uccia, l'abbiamo già salutata, Isa pure anche, sono molti anche gli amici che si stanno guardando. Ciao a tutti. Claudia, Rachele, Mauro, buonasera a te Mauro che è anche volontario a Croce Rossa, quindi ci segue sempre anche lui. Ciao Monica, ciao Roberto, un saluto anche a Claudio, poi Clara e Claudia che dice ancora non è stato firmato nulla e la gente scrive che da domenica siamo già in zona gialla. Ecco, noi siamo qui Claudia perché effettivamente con il Presidente Fermi vogliamo fare qualche anticipazione, ovviamente sono anticipazioni che ovviamente arrivano da chi ovviamente ha molto. Non lo escludo, lo auspico, finora più o meno ci abbiamo sempre un po' preso, diciamo che questa volta, come io spero che ci siano confermati i dati di settimana scorsa o magari anche migliorati e questo dovrebbe implicare poi un automatismo, nel senso che nel momento in cui esce un determinato indice a quell'indice corrisponde un colore, quindi non ci sono valutazioni di carattere politico, sono come dire applicazioni automatiche di indici rispetto ai colori. Tra poco con il Presidente Alessandro Fermi in diretta qua a Ciao Como parleremo anche dei vaccini, perché molti mi hanno chiesto Presidente anche di questo, oggi ATS ha fatto il punto della situazione e ha detto sostanzialmente che la curva dei contagi è rimasta stazionaria nelle ultime settimane, ha evidenziato una criticità nel mondo della scuola, perché soprattutto materne, medie, materne elementari, nidi, nelle ultime due settimane, come i Varese hanno avuto un aumento del numero di contagi, ma questo è un dato. L'abbiamo detto, è come dire inevitabile che possa succedere, rimango convinto che sul tema della scuola sia da accettare il rischio di questo possibile sviluppo di qualche contagio. Tra tenerla chiusa e tenerla aperta, c'è il rischio di tenerla aperta, c'è di avere quindi qualche possibilità di qualche contagio, ma di mantenere aperta la scuola. Ho avuto anche conferma da alcuni presidi anche oggi parlando che moltissimi hanno veramente fatto dei salti mortali per fare inizi diversi, staglionati, turmi, superiori, sto parlando delle superiori, ovviamente. Ho visto che c'è stato un grande impegno, anche ASF ha confermato di aver avuto un aumento del numero di cose, una rimodulazione, l'hanno chiamata così, e ha stoppito. No, vabbè, adesso questa settimana che sono riaperte, sono ripartite finalmente le scuole superiori con una DAD al 50%, mi sembra che sul tema del trasporto le cose stiano anche funzionando bene. All'interno della scuola ci sono tutti gli spazi per poter mantenere il distanziamento, dopodiché è chiaro che quando ci sono più persone nella stessa stanza un po' di rischio c'è, però bene accettare questo rischio. Allora, continuiamo con le vostre domande, amici di Ciocomo, sono tantissime anche questa sera, la zona gialla l'abbiamo già esaminata subito, quindi lo ricordiamo, magari che si fosse posto all'ascolto adesso, ne abbiamo già parlato in apertura ed è un auspicio del Presidente, ma solo questo. Un saluto a Maria, ad Isa, che dice, visto che si è dimesso conto e dovresti andare al Quirinale, però non so se è un augurio o no. Potrebbe incidere anche l'opinione del ECDC per l'eventuale passacambio di colori. L'ECDC che cos'è? Non lo so, Lorenza. ECDC, anche a me non... Non lo so che cosa è. Questo acronimo, se riusciamo a specificarlo, Lorenza, scriveci che cos'è, perché l'ECDC non ho capito che cos'è. Poi Niccolò dice, parla come ristoratore, lui dice cosa dobbiamo fare? Facciamo una spesa o no? Se andiamo in giallo, ok? Finalmente, ragazzi, però speriamo. Guarda, io sono veramente contento per voi, per tante altre attività. Cosa facciamo? Aspettiamo a fare la spesa? Io attenderei, considerate una cosa, che alla fine l'ordinanza verrà firmata domani sera, quindi venerdì, poi entrerà in vigore domenica, quindi pensiamo ad una possibilità di avere da settimana prossima, insomma, per cui, ecco, l'importante è che sia, come dire, una linea in discesa e non un gambero nuovamente come è successo, cioè la vera questione è anche quella di essere già finiti in giallo, essere tornati in rosso, aver detto che a Natale si stava aperti e poi gli hanno detto che a Natale si doveva stare chiusi, cioè questi sono stati anche, come dire, in qualche modo indotti a fare delle attività, degli acquisti, delle spese, insomma, per poi essere beffati da un giorno con l'altro, quindi ecco, l'importante è che, come dire, questa strada che si è intrapresa sia continuativa e da qui non sentire più parlare di colori arancioni, di parlare rossi da qui all'eternità, insomma. Maria, saluti ad Ilaria, Graziella, Presidente, ma questa altalena dei colori che non aiuta fino a quando, effettivamente? Beh, lo dicevo adesso, io mi auguro che se finiremo, come spero questa settimana o la prossima, insomma, in zona gialla, sia l'ultima volta che abbia sentito parlare di rosso e di arancione, lo dico perché spero che, insomma, la campagna vaccinale farà il suo corso, la stagione farà il suo corso, ma soprattutto, appunto, anche un po' l'immunità che piano piano c'è fatto, tutta una serie di atteggiamenti, insomma, per cui diciamo che alla fine dovremmo andare in una lenta, perché sarà lenta discesa verso questo, questo addio, arrivando al giallo veramente poi. No, non si può più tornare indietro, ragazzi, non si può più, non si può più tornare indietro e quindi alla fine, diciamo che la grande differenza rispetto all'anno scorso è il tema del vaccino, insomma, il tema della vaccinazione, adesso dopo ne parleremo, dopodiché sul tema dei ristoratori, Marco, io devo portarti qui, come dire, una segnalazione che mi spiace, insomma, adesso vorrò parlarne anche con il prefetto, perché, ma perché guarda, ci sono giustamente alcuni ristoratori che c'è un doppio interesse, lo vedi, lavoratori nei cantieri. Oggi tra l'altro abbiamo seguito una manifestazione che ha fatto a Canzo, i commercianti hanno chiuso oggi, simbolicamente c'è anche Claudio Casartelli che ti saluta in questo momento e dice che bisogna lottare per cercare di arrivare al giallo. Dicevi, scusate, che voglio dire, ci sono, come dire, lavoratori che sono magari fuori a lavorare, mangiano il panino sul camion, mangiano il panino sulla panchina, oggettivamente, c'è la possibilità, in qualche modo, di fare convenzioni per servire il pranzo, il pranzo ai lavoratori di aziende, piuttosto che ai lavoratori che sono in cantiere, solo nel momento in cui tu, come ristoratore, hai un determinato codice a teco, che è quello delle mense, ok? Allora, alcune prefetture, cito Lecco, cito Sondrio, cito Bergamo, penso Brescia, hanno dato l'ok a, come dire, fare delle mense per questi ristoratori o per mense aziendali che non hanno l'azienda. Nei giorni scorsi con il freddo che c'era, veramente, l'ho visto anche qui, poi mi hanno mandato le foto dei ragazzi che sono usciti da scuola e che, vabbè, non lo so, adesso io non voglio colpolizzarli a tutti i costi, però questi poveri ragazzi sono andati a prendere il panino e ovviamente erano fuori dal bar rispettando le regole, certo, erano un numero importante perché le scuole, ovviamente, non è che sono pochi quelli che vanno a scuola, però anche lì, boh, forse pensare giustamente quello che Dio dice, la stessa cosa che vale anche per i lavoratori, i muratori, per gli studenti perché in effetti erano lì per strada a mangiare. Sì, ma poi tra l'altro, come dire, dicevo, alcune prefetture hanno dato l'ok anche a quei ristoranti che non hanno il codice a teco collegato alle mense di poter fare mensa per i lavoratori che sono all'aperto, per i lavoratori aziendali che non hanno la mensa all'interno dell'azienda e che quindi anche loro devono uscire a mangiare e mangiare per strada. La prefettura di Como ha preso una posizione che invece se tu non hai il codice a teco collegato alla mensa non puoi fare questo servizio e allora io spero che andremo in zona gialla e che quindi il problema si risolve automaticamente perché a quel punto riaprono i ristoranti, però come dire, l'approccio non posso condividerlo, non posso condividerlo, tant'è che in altre province è diverso, anche perché è paradossalmente peggio se tu diminuisci il numero di ristoranti che possono fare questo servizio, aumenti solamente il numero di persone che vanno in quelli perché hanno un determinato codice a teco collegato alle mense che possono farlo. Però ragazzi si fa una fatica, si fa una grande fatica, io ho letto la risposta della prefettura di Como ma non va bene, non esiste, sia per gli ristoratori che una goccia nel mare ma comunque una goccia, ma soprattutto per tutta la gente che fuori lavorare o che lavora a qualche parte e si deve mangiare un panino all'aperto distante da dove l'ha comprato su un fulgoncino o su un marciapiede. Giusto, questo è vero. Allora saluti ad Alessandra dalla Germania e poi la nostra amica Agnese, speriamo, poi dice un'altra amica che si diventi giallo, speriamo per i nostri amici commercianti, dice Elena, saluto anche Elga, ci segue sempre anche lei, ascolta e aspetta il tuo appuntamento, prende il posto di Conte, dice, non so, Conte non so se l'allenatore... Io sono giuventino e all'Inter non ci andrei mai. Ah no, credo l'altro Conte, Elena buon pomeriggio, Mara ciao, un abbraccio, vi seguo la vostra di resta, la vostra amica estetista, ciao Mara. Mara, Mara è una di quelle che è rimasta chiusa ingiustamente per una settimana. Yolanda, un saluto anche lei, non ci credo, come Sant'Ommaso dice Yolanda, buon lavoro, non ci credo è riferito al giallo, per il distanziamento dice, siamo appunto a capo Agnese, a scuola sì, sui mezzi pubblici no. Agnese, io però in ottuta onestà devo dirti la verità, oggi ho visto, sono stato anche oggi, questa mattina ripetutamente a vedere un po', non mi è sembrato che sui mezzi, però magari qualche cosa, però io ne ho visti parecchi di Pullman e non ho visto questa grande, piuttosto Presidente ho visto un grande traffico, segno che forse magari qualche genitore in più porta i ragazzi, però Agnese questa è la mia opinione, ecco, c'è l'utilizzo di mezzi pubblici poi in talo verità. Quindi Adriana dice aspetteremo domani per sapere se siamo in zona gialla, ciao Ale da parte di Daniela, buona giornata a te, ciao Claudia, fino a quando c'è lo stato di emergenza? Chiede Claudia. Ma lo stato di emergenza è stato al momento, come dire, decretato fino alla fine di aprile, quindi questo però consente all'interno di questa cornice di poter fare i vari DPCM, cioè una serie di provvedimenti che, come dire, sono fuori, che nell'ordinario non possono essere fatti e quindi lo stato di emergenza consente di fare questi provvedimenti. Saluti a Maura, buonasera, dice avanti tutta e speriamo di poter andare, Maura, avanti tutta. Ciao anche a Paola, ciao a Luisa, non è sicuro, ma speriamo. Ma io dico sempre all'ultimo, sappiamo i colori, ah sì, il nostro nemico Nicolò, che abbiamo già visto prima, giustamente lui dice ma non sappiamo se fare la spesa o no, poi speriamo in un giallo perché se no sono guai. Ci meritiamo, dice Mary, la zona gialla. Saluti da Claudia, saluti da Simona, buonasera anche a te Simona, da Beatrice, lascia parlare fermi per la miseria, non so, io non credo averlo interrotto, però se è così chiedo scusa, chiedo scusa, mi sembrava di non averlo fatto parlare. Con la zona gialla potrò andare in Liguria, ci dice Maria Teresa? Beh, lì la possibilità di muoversi tra regioni che hanno il medesimo colore è consentita. Oh, quindi in caso di zona gialla. Nel caso anche in cui la Liguria fosse anche lei è zona gialla. Giusto, giusto, è vero. Ecco, ripetiamo un'altra cosa, Presidente, perché mi hanno scritto anche questo di ripeterlo, comunque in zona arancione, se dovessimo rimanere in zona arancione, si può andare nelle seconde case. Sì, questo è stato consentito, come deroghe, insomma, la possibilità di andare nelle seconde case anche fuori dalla propria regione. Ok, anche fuori dalla propria regione, giusto. Fabio, ciao, buonasera Mari, abbiamo già avuto, dice, una grande pazienza. Ha vero, ha ragione. Ovviamente sì, è un anno. Una grandissima pazienza. È un anno Marco, tra un po' festeggeremo, festeggeremo no, insomma, però toccheremo l'anno di trasmissione su questa emergenza. Mamma mia. Emanuela, vi ringrazio per ciò che avete fatto, per far capire ai capoccia che ci stanno devastando, che l'estetista e i tatuatori sono persone di fiducia, come i parrucchieri, che dovrebbero, la regola si possano raggiungere, ovviamente, su appuntamento, ci dice Emanuela. Certo, Emanuela. Certo, Emanuela, sempre sostenuta questa linea, continuo a sostenerla e andate avanti così, perché sono professionisti, cioè, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, ma se mi devo fare un trattamento estetico o tagliare i capelli, o un tatuaggio, potrò andare al mio tatuatore di fiducia, devo andare a quello del mio paese, che magari neanche conosco, non so come lavoro, non so se si usa tutte le precauzioni, ma a me sembra talmente evidente questa cosa che non so chi ha avuto il coraggio di interpretarla in maniera differente. Ale, ciao, dice, improponibile, la nostra amica Emanuela, improponibile gli orari nelle scuole su per una chiusura, ovviamente nel pomeriggio. Sì, questo è fatto, ovviamente, di razionare il più possibile il tema dei trasporti, dell'accesso e dell'uscita, quindi è fatto con quell'obiettivo, dopodiché mi rendo conto che per le famiglie diventa un problema, perché chiaramente uno, se accompagna i figli a scuola, aspettare le 10 è un problema per il lavoro, quindi questo è certamente un problema. Dopodiché, adesso vedremo settimana prossima, se entreremo in zona gialla, magari ci sarà anche, come dire, un po' di alleggerimento rispetto a queste differenziazioni di orario. Benedetta, buonasera, un chiarimento, si può uscire dal comune per l'acquisto di articoli che non rientrano nei generi alimentari? Beh, allora, se il rivenditore non c'è nel proprio comune, uno può uscire per andare a comprarlo, se gli serve, non lo so, gli si rompe l'aspirapolvere, nel proprio comune non può andare a comprarsi l'aspirapolvere. E chiaramente Benedetta dipende anche da che genere è quello che tu gli fai riferimento. Abbiamo talmente tanto ascoltatori, talmente bravi, che rispondono anche a chi ci ha fatto prima la domanda. Se la Liguria è zona gialla, dice Claudia, brava, Mari ti saluta, poi Cristiana, aspetta che leggo la domanda di Cristiana. Presidente, buonasera, da operatrice sanitaria mi auspico che il vaccino divenga obbligatorio per chi lavora in ambito sanitario a tutela della salute delle persone che si assistono. Per ora prevale l'etica professionale, dice, e non basta. Ho visto i dati, ho visto i dati che sono usciti ieri rispetto alla vaccinazione sul personale sanitario. Ecco, l'11% del personale sanitario non ha aderito alla campagna di vaccinazione, quindi vuol dire che l'89% ha aderito, c'è un 11% che non ha aderito e me ne dispiace molto, nel senso che giustamente sono stati inseriti all'interno della fase 1 della vaccinazione come giusto che fosse. Dopodiché, per uno che esercita la professione sanitaria, che dovrebbe essere non solo da esempio verso i cittadini, ma ovviamente è anche soggetto a evidenti contatti, dovrebbe essere obbligatorio. L'89% mi sembra... Comunque è un risultato positivo, nel senso che comunque siamo quasi al 90%. Speravo di più anch'io. Però voglio dire, al latine, questo 11% mi spiace molto e condivido che dovrebbe essere obbligatorio il vaccino per chi fa alcune professioni. Cristiana, in effetti, il Presidente condivide anche lui questa opinione, è assurdo, dice Paola, scuola dalle 10 alle 15. Eh sì, quello diciamo prima Marco. E Paola però è anche... e siamo anche qui però a dire che bisognava... e che bisogna fare orari differenti, ora bisogna anche poi trovare un punto di accordo. Diciamo che... Certo, io immagino Paola, per la famiglia, per le famiglie può essere un disagio. Diciamo che come dire, il termine massimo, effettivamente, in questo caso qui, è molto largo, nel senso che effettivamente dalle 11 alle 15 è oggettivamente molto largo. come forbice di orario. Non so se sia così necessario fare una forbice così ampia per alleggerire il trasporto, credo che alla fine possa essere ricondotto all'interno di una forbice un po' più stretta. Allora, poi salutiamo, aspetta. Dopodiché dice l'autonomia scolastica e quindi al fine sono i dirigenti scolazzi che giustamente... Andrea dice, Presidente, gli cantieri per gli impianti sportivi comaschi non ci sono, grazie. Andrea, hai ragione. Sono due anni, dice Andrea. Io ho portato anche un po' di soldi per questi cantieri perché qualche anno fa 7 milioni e mezzo poi ne ha messi altrettanti il comune di Como sono 13 milioni complessivi, 14 milioni complessivi e ci sono una serie di cantieri che devono partire tra cui quello del palazzetto di Muggiò che deve essere completamente rifatto. Mi auguro che quest'anno possano partire. Andrebbe interpellato l'assessore Galli che è sicuramente più informato di me sulla tempistica di avanzamento della procedura per arrivare a cantierizzare. Ho parlato con il sindaco la settimana scorsa ci ha parlato anche di questa cosa in parte ma vedremo di parlarne magari nel fine settimana e poi ovviamente di chiamare anche l'assessore Galli ovviamente proprio perché lui l'assessore più che Galli fosse direi quello dei lavori pubblici perché forse siamo leo mix la parte di scelta la parte di scelta di dove farli è dell'assessore Galli come dire l'ite procedurale per realizzarli e della parte dei lavori pubblici gare appalti insomma quella parte lì che è sempre veramente molto molto lenta. Cosimo ci dice di non abbassare la guardia sulla scuola aperta ok però dice per esempio ad Albese una classe prima media da ieri è in quarantena e Cosimo però abbiamo detto prima abbiamo visto i dati oggi che ci ha dato ATS e Cosimo e non solo ad Albese ma ce ne sono moltissimi comuni con delle classi piccole nidi materne alle prese con questo problema della quarantena. Mary dice non si può uscire dalle regioni fino al 15 di febbraio in tutta Italia ti risulta? Fino al? 15 di febbraio? Ma indipendentemente dal colore dice Mary lei l'ha scritto non lo so non ha fatto riferimento al colore non avete a cuore il bene dei figli dice Paola no beh non è che in che senso perché dice questo? Non lo so questo è un'affermazione che è arrivata l'acronimo è Centro Europeo sul controllo malattie infettive di Bruxelles dice la nostra amica Elga quindi no quindi la risposta è no nel senso no su questo non ha non c'entra nulla ok ok perfetto perfetto dunque Paola Paolo dice concordo con te in una scuola del Comasco intera scuola chiusa risposta a Cosimo che ci ha scritto prima e ne abbiamo parlato Paolo e Cosimo prima e oggi sono i dati proprio di ATS ne stavamo parlando prima anche col presidente Fermi che mettono in evidenza come nell'ultima settimana la scorsa ovviamente zero contagi per quanto riguarda le superiori poco a poche anche per quanto riguarda le medie decisamente di più per asili nidi e materne che ovviamente continuano a loro presenza da tanto tempo Centro Europeo prevenzione contagio che ha inserito anche due regioni con colore rosso scuro dice Lorenza confermo il tema del 15 di febbraio sullo spostamento delle regioni perfetto bravo ottimo è contenuto nel vecchio decreto legge che venne fatto a cappello che poi fu smentito sul tema delle seconde case perché alla fine quello è consentito quindi lo spostamento indipendentemente dal colore adesso siamo a fine gennaio però dobbiamo arrivare fino al 15 febbraio dopodiché tu puoi farlo solamente se la tua regione è dello stesso colore quindi gialla quindi fino al 15 di febbraio indipendentemente dal colore dal 15 febbraio se la Lombardia ovviamente il 15 febbraio speriamo proprio di sì sarà gialla e la Liguria sarà gialla si potrà andare ok ecco quindi chiarimento alla domanda precedente grazie alla nostra amica che ci ha scritto questa è Mary Mary brava grazie Mary sono anche molto molto attenti i nostri ascoltatori Claudia e Mary grande fermi gli orari dice Claudia delle superiori troppo diversi Presidente tra i vari istituti non permettono di organizzare al meglio i trasporti orario dalle 10 alle 15 in Alto Lago i ragazzi tornano alle 18 e partono alle 8 è assurdo allora Claudia effettivamente per chi abita in Alto Lago e deve venire a Como Alto Lago Val d'Intelvi anche adesso lì sì effettivamente non fu le 18 mi sembra un po' là ma comunque rischio di tornare a casa alle 17 e c'è Presidente questo sì però del resto che fare del resto purtroppo non ci sono molte alternative nel senso che purtroppo questo è una fase anche di sperimentazione Marco rispetto al trasporto pubblico sulla scuola nel senso che sono superiori sono riaperte questa settimana quindi una fase di sperimentazione dopodiché io credo che se gli indici miglioreranno insomma si entrerà nella fase 2 della vaccinazione tutto sommato questo 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 arco temporale oggi in alcuni casi non tutto così è molto ampio potrà essere verrà rivisto arrivarsi allora qualche domanda e poi l'ultima parte promesso perché la dobbiamo dedicare ai vaccini abbiamo parlato di scuola abbiamo parlato di spostamenti zona gialla possibile auspicabile ma lo ripeto ancora a chi c'è ma da poco all'ascolto non è ancora certo il presidente non è ancora certo ma come dire io spero che la Lombardia possa finire in zona gialla la domenica Eros Barbara Luigi Attilio buonasera presidente ciao a tutti Paola dice sì appunto la salute dei nostri figli prima di tutto piuttosto in dad dice che sta buffonata dalle 10 alle 15 in un liceo è improponibile sì anche perché poi beh in effetti mi viene anche a pensare poi c'è anche da mangiare i ragazzi 10-15 devono anche mangiare insomma in effetti è una situazione certamente non non facile allora comunque adesso con Brigitte iniziamo a parlare dei vaccini perché siamo agli ultimi 17 minuti confermi per quanto riguarda il piano vaccinale si legge che per gli anziani il tutto slitta a fine marzo se fosse confermato non andiamo bene per niente ci dice Brigitte allora iniziamo da lei e poi e poi passiamo anche agli altri vediamo un po' se riusciamo a dare le risposte a tutti anzi le risposte ve le daremo sicuramente fioccano domande a getto continuo non riesco neanche a seguirle va bene grazie amici perché anche oggi siete davvero numerosi Presidente il primo tema generale sui vaccini è che come dire si è quasi concluso insomma l'accordo con con le farmacie che era uno dei temi che era uscito anche nelle settimane scorse per poter consentire anche al circuito che è molto capillare delle farmacie di poter anche loro somministrare i vaccini covid-19 ovviamente parliamo dei vaccini che arriveranno molto probabilmente nel mese di febbraio AstraZeneca che sono vaccini come dire un po' più semplici perché non sono genetici come gli altri due quello della Moderna quello della Pfizer ma sono vaccini che vengono iniettati una sola volta e hanno quindi una facilità di somministrazione in quel caso sia dal medico che dal farmacista oltre al fatto che non devono essere conservati in temperature particolarmente basse come quello di Pfizer allora la fase 1 si chiuderà il 5 di marzo e all'interno della fase 1 sono stati vaccinati tutto il personale sanitario è stato vaccinato tutto il personale sanitario dell'RSA e gli ospiti dell'RSA dopodiché l'avevamo anche sollevato più volte qui dentro inizierà come dire dal 5 di marzo la fase 1 bis fase 1 bis che comprenderà finalmente la residenzialità psichiatrica ricordi quante volte abbiamo detto ma perché le RSD residenze per i disabili l'assistenza domiciliare i centri di urno i farmacisti le confortfessioni quindi vuol dire dentisti o don togliatri la sanità malattica la polizia di stato gli ambulatori accreditati i medici liberi professionisti gli informatori scientifici del farmaco questi rientranno all'interno come dire della fase 1 bis quindi tutto ciò da marzo dal 5 di marzo ok perfetto dopodiché c'è il tema delle vaccinazioni per di massa chiamiamole così sì diciamo che alla fine per tutti quelli che sono che andranno per fasce di età insomma per cui quella vaccinazione che potrà essere fatta attraverso AstraZeneca per intenderci nel senso che come dico gli altri due tipi di vaccini riesci a fare alcune categorie che sono andate fino ad essere e verranno fatte anche nella fase 1 bis che è un po' la fase 2 quindi si è diviso come dire le categorie negli over 60 ok innanzitutto gli ultra ottantenni che ovviamente sono precedenza assoluta poi ci sono 80 sessantenni e gli under 60 allora il tema qual è che sugli over 60 ok sugli over 60 l'idea è quello di utilizzare un pochino anche in collaborazione con i comuni un po' il modello che è stato utilizzato per il vaccino anti-influenzale cioè quello di poter utilizzare i medici di medicina generale attraverso i loro ambulatori o laddove il medico di medicina generale non ha gli spazi per poter fare in sicurezza il vaccino di mettere a disposizione magari delle palestre piuttosto che delle strutture centri civici e questo dovrebbe valere questa linea generale per gli over 60 per gli under 60 quindi tutte le persone che hanno messo 60 anni si sta pensando come dire abbiamo anche letto a degli hub a degli hub cioè sostanzialmente dei luoghi che sono dividi che sono spassi sul territorio uno due due per provincia diciamo che possono essere punto di riferimento per tutti coloro che devono fare il vaccino che quindi saranno le persone che andranno dai 16 ai 18 anni fino ai 60 sulla provincia di Como si sta guardando che cosa dei luoghi che abbiano alcune caratteristiche ampi spazi facili parcheggi e che siano magari dislocati su una provincia comunque morfologicamente complicata come la nostra non particolarmente riescono a coprire più territorio possibile tant'è che è uscito il tema di Villa Erba che può coprire come dire la parte di Como della Val d'Intervi dell'Alto Lago la Rio Fiere che è l'altro centro espositivo per l'Erbese la Bassacomasca il Canturino marianese e come dire Malpensa che vale per Varese ma che può raccogliere anche un po' di utenza sulla Bassacomasca penso all'Omazzo Bregnano insomma tutta la zona della Bassacomasca che attraverso la Pedemontana può raggiungere tranquillamente Malpensa e questo vale per gli under 60 insomma persone che hanno magari una possibilità di movimento molto più molto più agevole quindi questo quando partirà la vaccinazione in massa la vaccinazione in massa partirà nel momento in cui ci sarà la possibilità di avere dovrebbero arrivare nel mese di febbraio i vaccini AstraZeneca cioè quei vaccini che dicevo prima che hanno una facilità di somministrazione non hanno necessità non è che gli altri scompaiono però è chiaro che alcune tipologie come per esempio residenti delle strutture psichiatriche piuttosto che come gli operatori delle strutture psichiatriche piuttosto che le residenze disabili potranno tranquillamente fare Moderna fare anche Pfizer nel momento in cui vi è la possibilità di conservare determinate temperature del vaccino sulla massa quindi attraverso il sistema farmaceutico attraverso i medici di base attraverso gli hub ci vorrà un vaccino come dire molto più agevole quindi AstraZeneca ha tutte le caratteristiche per poter essere quello il vero vaccino di massa non è un vaccino genetico nel senso che a differenza degli altri due AstraZeneca viene iniettata una piccola parte di virus che ti consente di sviluppare gli anticorpi e la data potrebbe essere marzo anzi non potrebbe dovrebbe essere sicuramente marzo giusto la AstraZeneca adesso la AstraZeneca dovrebbe essere appunto confermato l'inizio della distribuzione il mese di febbraio quindi da marzo comincerà secondo me la vaccinazione di massa attraverso come dire queste caratteristiche sostanzialmente adesso primi di marzo dovrebbe iniziare con questa fase 1 bis che ci ha detto il presidente Fermi e a seguire orientativamente 10-15 giorni 20 giorni a metà di marzo credo si potrebbe pensare credo butto lì però correggimi se alzardo è sbaglio si potrebbe ipotizzare l'inizio della vaccinazione di massa vaccinazione di massa che per il nostro territorio potrebbe essere l'ario fiere erba potrebbe essere queste sono delle ipotesi l'ario fiere villa erba le strutture come abbe devono avere alcune caratteristiche e l'ente fiera ovviamente gli enti fiera al netto delle difficoltà inclusione le fiere da ormai un anno avere le caratteristiche di disponibilità di spazi di parcheggi per poter accogli la vaccinazione in massa perfetto allora tantissimi ecco questa è la precisazione non l'ho interrotto il presidente l'ho fatto parlare perché era giusto moltissimi ci stanno chiedendo appunto perché è come deve sempre complicare tutto che senso ha in che senso Lorenza non ho capito fammi capire cosa intendi dire pienamente d'accordo anche Paola ecco poi c'è anche il mondo della scuola che insomma effettivamente si sta un po' lamentando di questi orari ma Laura dice mangiare a pranzo fuori a fare la pipì perché in effetti è giusto ecco Laura giustamente dice effettivamente è vero ha detto una cosa è vero Laura questo è vero è verissimo bisogna mangiare fuori è disumano nel senso che alla fine voglio dire Loredana buonasera a te buonasera anche a Fabio Fabio Fossati veramente imbarazzante due pesi due misure l'ecco è più avanti di Como non molliamo grandissimo Fabio io spero che andiamo in zona gialla e si risolve il problema ci ho detto però questa cosa che ho sollevato oggi non si può non stigmatizzare questa differenza che Como ha rispetto alla medesima richiesta fatta da alcuni esercizi attraverso sia confesercizi sia con commercio che insomma alla fine che comporta che cosa che era un discrimine per cui a Cesana Brianza tu puoi come dire andare al ristorante a fare mensa e a Pusiano non ci puoi andare ma non va bene e se devo sostenere una linea di buonsenso ma come dire sostengo la prefettura di Lecco così come altre prefetture che hanno dato questa possibilità Rachele ci chiede quando si potrà andare in Svizzera a trovare i figli e i nipoti da novembre non li vede ecco per la Svizzera non ci sono per l'estero il problema è che al momento per l'estero rimane la possibilità di rientrare in Italia nel momento in cui si rientra bisogna fare 10 giorni quarantena o fare il tampone le 48 ore precedenti ma lei può andare in Svizzera bisogna non so la Svizzera che regole ha rispetto alla possibilità di andare in Svizzera a me risultava solo i frontalieri un ingresso dei frontalieri quello è garantito ma se io ho necessità di andare in Svizzera per motivi anche solamente di lavoro o per motivi di assistenza sicuramente la Svizzera avrà dotato si sarà dotata di alcune norme per mettere come dire in sicurezza la propria popolazione e per cui probabilmente chiederà anche lei come dire un tampone non troppo adattato nel tempo Presidente ti saluta Rino ti saluta anche Patrizia Rava e dice ciao Ale ciao Marco ma secondo voi per Pasqua si riapre o dobbiamo aspettare maggio perché lei ovviamente è nel settore della ristorazione la conosco anch'io e siamo andati a trovarla posto stupendo in Alto Lago secondo te oggettivamente Presidente l'idea Pasqua Pasqua non so quando cade cade ai primi di aprile se non dicono correggetemi se sbaglio primi di aprile sì primi di aprile 7 se non sbaglio 9 aprile sì la prima settimana di aprile insomma Pasqua e non lo so Patrizia oggettivamente però giusto sentiamo adesso il Presidente poi Silvia dice se si proteggono le chiusure le imprese siamo al collasso comunque sul tema della Svizzera ti confermo i 10 giorni i 10 giorni di quarantena se provieni da una zona considerata ad alto rischio rispetto all'epidemia sull'ingresso sull'ingresso ah sull'ingresso non so parlando sull'ingresso in Italia è chiaro nel senso che devi fare 10 giorni o il tampone se tu vuoi andare in Svizzera quindi 10 giorni se provieni da una zona o da una regione che è come dire considerata ad alto rischio anche in tempo reale il Presidente riesce ad avere i suggerimenti utili no va detto grazie ringraziamo anche il tuo staff che hai tutto lì sotto mano veramente giusto per cercare di darvi tutte le risposte che vedete cioè adesso io voglio anche dirvi ragazzi state chiedendo dalla A alla Z insomma bisogna anche e quindi abbiamo cercato cerca il Presidente di darvi tutte le risposte del caso non ci sono limitazioni particolari ci saluta la Presidente della Delegazione Lago e Valli di Confartigianato che è Silvia ciao Silvia parla di una situazione al collasso Fabrizio anche lui ciao io da Olgiate porto a scuola a Erba liceo Galilei tutti i giorni in macchina dice Paola previsione dice Alberto di bandi in regione per le partite IVA a breve sì uscirà una finestra una finestra dall'1 al 5 di febbraio molto interessante anche questa cosa ok un altro avviso sì Lombardia sì Lombardia ancora Alberto per l'ampliamento della platea dei beneficiari a misura di ristoro a fondo partito per lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al registro delle imprese ok per cui tutti quei lavoratori autonomi con partita IVA che non sono iscritti al registro delle imprese perfetto Alberto quindi anche questa è una notizia importante allora questa la finestra sarà sarà tra l'1 e il 5 di febbraio finestra 1 per la filiera servizi della persona intermediari agenti rappresentanti filiera del design e dei servizi fotografici domande dal 1 febbraio alle ore 11 al 5 febbraio alle ore 17 la finestra 2 è per la filiera attività culturale dello spettacolo filiera dello sport e intrattenimento bambini filiera del turismo filiera dei servizi per eventi comunicazione marketing pubblicità finestra anche qui dal 1 febbraio dalle ore 15 al 5 febbraio alle ore 17 dopodiché ci saranno appunto le domande tante cose in maniera telematica attraverso i bandi online nelle finestre che ormai conoscete ma se volete vi mettiamo il link in link però primo febbraio facciamo in tempo settimana prossima settimana prossima facciamo in tempo ancora no beh sì ne parliamo ne parliamo giovedì prossimo sì comunque sì allora tante notizie anche oggi abbiamo dato da lunedì quindi sui vaccini abbiamo parlato degli ABBA abbiamo parlato di come avviene quindi la somministrazione hai detto AstraZeneca febbraio prevista la consegna possibilità convenzione fatta con le farmacie quindi potrà essere somministrato il vaccino anche in farmacia Marcella dice per Pasqua richiudono no 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 Marcella basta Simona Forza Lombardia Pasqua è 4 aprile comunque ah 4 aprile ok vedi quindi Forza Lombardia Simona Massimo Gerbesi anche un saluto ciao Massimo Clara sindaco di Alzate Massimo Clara per tanti anni esatto per tanti anni Clara così simpaticamente cosa dice Clara alla fine di tutto riferito a te credo vogliamo vederti con un tatuaggio va bene Clara è una tatuatrice e non lo so non lo so ma no l'ha detto così con una faccina molto sorridente e divertente Claudia volentieri mio figlio sta fuori 11 ore per fare 5 ore a scuola nei piccoli paesi è un disastro Claudia effettivamente ho visto anch'io che la situazione non è delle migliori va bene tantissime altre persone che ci hanno scritto tanto sul mondo della scuola Emanuela dice grazie Alessandro pronunciare ogni tanto la nostra categoria che sembra sia dimenticata Emanuela è quella mi sembra i tatuatori estetisti giusto estetisti Emanuela sì estetisti l'abbiamo sempre detto anzi il presidente Fermi devo dargli atto è sempre stato molto anche vicino a questa categoria Roberto dice ciao Ale domani sera a Cassola e mai mollare lui domani sera a Cassola però domani sera a Cassola si sono chiusi da sporto da sporto da sporto ce la fa lui quindi grazie presidente per le precisazioni utili confermo il governo ha bisogno di persone come lei e come Marco ma grazie sei troppo buona troppo gentile va bene sono furiosa dice Patrizia chi abita il comune di 5.000 abitanti può andare ad Arese a fare shopping e il mio 8.000 abitanti non mi dà la possibilità di andare dai miei genitori in un altro comune mi sembra una presa in giro un saluto da Patrizia Patrizia se devi assistere i tuoi genitori puoi andarci nel senso che poi lì come dire il discrimetro assistenza lo so infatti infatti perché sono genitori anziani comunque magari hanno bisogno di assistenza è vero Patrizia è anche vero che poi necessità appunto ovviamente ci si può anche spiegare voglio dire vedo che moltissimi i nostri ascoltatori Cosimo e altri stanno rispondendo ad altri che hanno fatto delle domande insomma devo dire che ha mancato una catena di informazione pazzesca veramente incredibile Ada vaccini alle persone più deboli e fragili l'abbiamo adesso l'ho sostenuto e finalmente è stata inserita per i ragazzi disabili o i familiari dei ragazzi disabili nel momento in cui loro per ragioni mediche non possono fare il vaccino sono una categoria che secondo me è rimasta esclusa fino ad oggi voi pensate come dire ai centri di neuropsichiatria insomma alle RSD alle residenze per i disabili insomma lì ci sono veramente tante fragilità adesso fortunatamente il governo l'ha inserito nei primi vaccinati dopo la chiusura della fase 1 Allora Clara dice che la mamma però ospite ad Alba Villa a casa di riposo non è ancora stata vaccinata ultra novantenne Silvana dice ma dopo il vaccino sempre con la mascherina e chiudiamo allora vabbè quindi Clara tieni conto di questa cosa vediamo un po' Clara poi magari può succedere in questi giorni anzi ce lo auguriamo ovviamente Silvana ci chiede appunto il vaccino e poi subito ancora la mascherina da chi verremo avvisati per andare a fare il vaccino e Daniela che dice le persone con patologie in quale periodo eventualmente saranno vaccinate magari rispondiamo a queste due o tre domande poi le altre daremo le risposte grazie al tuo staff beh allora le persone che hanno delle patologie e delle fragilità verranno vaccinate per prime ovviamente quindi chiusa la fase 1 rispetto rispetto alle vaccinazioni sanitari quindi Daniela direi marzo metà marzo inizio della fase 2 la fase 1 bis per cui direi inizio marzo su chi avviserà lì ci sarà una campagna di informazione perché verrà divisa per facilità nel senso che gli anni a 60 come dire verranno dirottati verso questi hub con un calendario che secondo me proseguirà anche noi il tema dell'età per cui ci contatteranno rispetto a quando è il nostro turno per fare il vaccino sugli over 60 sugli over 60 ci sarà il medico di base il medico di base che potrà o nel proprio ambulatorio o attraverso come dire gli spazi messi a disposizione al comune o attraverso la farmacia contattare per per fare vaccinazioni un po' sul modello un po' sul modello delle vaccinazioni al volissimo dopo il vaccino sempre la mascherina Silvana dice beh sul tema mascherina io credo che negli ambienti chiusi la porteremo ancora per un bel pezzo all'aperto credo che a un certo punto la toglieremo negli ambienti chiusi la porteremo ancora per un bel pezzo dopodiché alla fine anche questa mascherina devo dire una cosa sulla mascherina che alla fine probabilmente molti l'hanno notato stiamo dicendo una cosa banale ma voi pensate quanto la mascherina e questo distanziamento fisico perché poi è diventato un distanziamento sociale ma potremmo fare una trasmissione a differenza tra distanziamento sociale e distanziamento fisico abbia impedito all'influenza di circolare cioè quest'anno l'influenza non esiste il virus influenzale non c'è nel senso che sì qualche caso ci sarà ma ho parlato proprio ieri con l'ospedale Sant'Anna con il dottor Banfi che mi diceva che solitamente in questo periodo quindi a fine gennaio si era nel picco nel pieno della pandemia della pandemia influenzale influenzale e quindi anche i ricoveri per influenze erano veramente molto molto alti soprattutto le persone anziane quest'anno l'influenza praticamente non si è vista e non si è vista grazie come dire a queste mascherine per cui come dire alcune precauzioni che poi possono essere lasciate alla libertà del soggetto secondo me qualcuno continua a usare se tu pensi come dire a alcune immagini anche negli anni scorsi soprattutto nella parte est del nostro mondo quindi giapponesi cinesi coreani che utilizzavano queste mascherine e noi li guardavamo un po' così però ti rendi conto che in realtà come dire su un tema come quello influenzale su un virus quanto hanno protetto la popolazione perché alla fine l'influenza quest'anno non è comparsa amici ci avete seguito in tantissimi che dirvi il tempo è scaduto io ringrazio il presidente Fermi grazie a voi torna settimana prossima perché come vedi adesso è diventato ormai una famiglia una community no dove comunque tante gente anche oggi beh Marco finita la pandemia poi faremo una festa così conosciamo tutti faremo la festa quando è finita la pandemia adesso ti prendono in parola e dobbiamo farla per forza grazie presidente grazie a voi grazie davvero buona serata amici tanto